Ci stiamo lavorando, ci sto lavorando con dei colleghi scrittori e sceneggiatori perché penso che uno scrittore quando vuole trasferire un proprio romanzo al cinema, per quanto sia uno sceneggiatore come nel mio caso, e che quindi abbia, che io nel mio piccolo, una conoscenza del mezzo, debba comunque, ha bisogno di uno sguardo esterno, perché se molto dentro la materia hai bisogno di qualcuno che ti possa in qualche maniera sostenere e con cui ti possa confrontare. Quindi diciamo che mentre lo scrivevo non pensavo necessariamente a un film. Dopo mi sono reso conto che ovviamente per tanti anni di abitudine la scrittura per il cinema e la televisione ti insegnano a essere molto conciso, ad avere anche la capacità di raccontare in maniera forte per immagini, ad essere visionario e quindi se c'è del cinematografico sotto la bottiglia, in nuce sicuramente nasce da spontaneamente, non come intento iniziale. Poi avendo avuto degli ottimi riscontri, sia dal punto di vista critico, siamo ancora in anteprima perché non siamo ancora in distribuzione nazionale, e soprattutto il sostegno e l'appoggio all'interno delle varie presentazioni che abbiamo fatto, di scrittori come Andrea Cotti, l'autore di Un gioco da ragazze, un grandissimo scrittore di noir italiano, o di Angelo Petrella, lo scrittore della Città Perfetta, che è stato il più grande sostenitore, siamo conosciuti così, io gli mandai il manoscritto e niente, lui mi richiamò da un meraviglioso pazzo qual è, gridando, è fantastico, è fantastico, questa cosa bisogna pubblicarla, ho detto sì va bene, ci calmiamo un attimo, ne parliamo. Quindi aver avuto, diciamo, in questo senso, vedere come solitamente un ambiente come quello della scrittura, dove si è sempre un po' spaventati da chi arriva, invece in qualche maniera essere accolto, trovare delle braccia spalancate, è stata sia una fortuna dal punto di vista umano, che anche dal punto di vista proprio pratico, perché, ripeto, il confronto con, oltre che con il pubblico, anche con i colleghi è molto, molto importante. E poi nelle presentazioni che abbiamo fatto in anteprima, la cosa più, in assoluto più gratificante è stato il fatto che non ha lasciato indifferente nessuno questo libro, chiunque l'abbia incontrato si è scandalizzato e ha detto Oh mio Dio, non puoi fare di un personaggio di questo tipo un eroe, è un libro amorale indecente, oppure gente che mi ha raccontato, non avrei mai immaginato di poter sentire vicino il disagio, sentire vicino il disagio, vicino alla disperazione di personaggi simili. E un altro punto in più, avendo utilizzato io un registro linguistico particolare che attinge molto anche dal sassarese, italianizzandolo, quando l'abbiamo presentato a Courmayer o a Milano, è vedere che chi l'aveva letto a quelle latitudini capiva. E questo era proprio veramente con l'editore della Bupenled, con Aldo Putignano, quando lavorammo alla revisione era la nostra grande preoccupazione, ma chi non conosce queste espressioni qua riuscirà ad entrarci? E invece capivano tutto, erano colpitissimi, mi dicevano ma questa cosa qua è questa similitudine tua, ho detto è mia italianizzata, in realtà è un modo di dire sassarese, dico una stronzata, come ha il colore di un cane che fugge, insomma è un detto tipicamente non soltanto sassarese ma anche lugudorese. E quindi in questo senso ho una grandissima soddisfazione proprio nell'essere riuscito o nell'aver tentato di riuscire a portare un linguaggio nuovo, laddove i libri sono sempre più patinati e plastificati, eccetto poi delle eccezioni che ci sono, che sono forti e positive, mi viene proprio in mente Angelo Petrella con i suonazzi Paradise oppure proprio con La Città Perfetta. Un Dio a caso è sia la sceneggiatura, per cui purtroppo ancora non si è riusciti a trarne un film, perché comunque è una storia molto forte, molto feroce, per quanto poi anche molto romantica e lirica, però diciamo che è un momento in cui nel cinema italiano non si ha molta voglia di rischiare, e si spera che arrivi il momento giusto per realizzarlo anche come film. E sia il romanzo, sono una vicenda ambientata in Sardegna, però in una Sardegna a cui io volutamente non do una collocazione dichiarata, in realtà mi sono ispirato alla realtà dell'argentiera, che proprio poco prima di partire per Roma è una realtà che mi è capitato di vivere, di frequentare, di conoscere abbastanza bene. Quindi diciamo che alla fine, essendo cresciuto qua e essendo stato qua fino ai 20 anni, poi corri entro di due anni, nei primi anni 2000, e alla fine sono legatissimo soprattutto a Sassari, la città nella quale anche se poi non ho sangue sassarese, perché mia madre, pur essendo sarda, non è di qui, è anche di origini venete, quindi come ho detto prima sono proprio un meticcio bastardo. È una città alla quale sono legatissimo, credo di avere tanto di sassari proprio da un certo tipo di sarcasmo, da un certo modo di vedere le cose, e da un certo modo di sentirsi dei sardi anche un po' differenti, diciamolo senza essere snob o superiori. Abbiamo una visione un po' differente, nel senso che comunque credo che siamo i primi a essere stati cosci del progressivo processo di sradicamento che sta avvenendo, e in questo senso tentiamo di guardare un po' di più verso il mare, ma come dicono anche, hanno detto prima, animè, tanti scrittori sardi e sassaresi, o intellettuali sardi e sassaresi, quindi non sto in questo senso rivelando niente di nuovo. Quindi sono assolutamente molto legato a questa città, è comunque la realtà della Sardegna, non a caso poi i protagonisti di sotto la bottiglia sono sassaresi che si sono trapiantati a Roma, quindi questo legame è forte, resiste, anche da un punto di vista proprio di immaginario, non solo da un punto di vista affettivo, degli amici che ho qua o della mia famiglia. Per quel che riguarda poi le prossime storie, invece temo che dopo un Dio a caso, il prossimo progetto letterario, il prossimo romanzo che ho in cantiere, lì i protagonisti non saranno sardi, e non sarà ambientato in Sardegna. Però, ripeto, resta nel mio immaginario sia linguistico che anche proprio visivo, assolutissimamente. una città così particolare dove si riesce contemporaneamente ad avere attaccamento per la tradizione, allo stesso modo a buttare giù le villette Liberty e a sfondare le mura in tutti i modi, con tutto che vedo una Sassari più viva, adesso rientrandoci, vedo una Sassari più viva, anche più bella, lo possiamo dire, perché la Sassari in cui siamo della stessa generazione, la Sassari in cui siamo cresciuti negli anni 90, era veramente una Sassari terrificante. Adesso possiamo dire che è una città che ha degli spazi belli, io rimango anche colpito, perché dicevo, caspita, io mi ricordavo la Germania Est di Honecker, sta diventando una cittadina di provincia in cui c'è una dimensione umana. Quindi, essendo cresciuto proprio in questo tipo di ambiente qua, ne resto quasi sempre affascinato. Poi è logico che per tante ragioni professionali e umane mi ha afflato per Roma e forte, però questa è sempre la mia seconda casa, insomma, non c'è dubbio. Ma innanzitutto credo che la prima cosa è che deve essere tutto, tutto molto visibile. Se tu, quando leggi una sceneggiatura, riesci a vedere quello che c'è scritto, riesci a capire con pochi tratti chi è il personaggio, a immaginarlo, e in qualche maniera a proiettarti su una dimensione altra, perché poi la sceneggiatura in realtà non è come un romanzo che, grazie al cielo, è una materia viva di per sé. La sceneggiatura è un materiale di transizione e questo è una cosa di cui purtroppo spesso ci si dimentica. Secondo me un modo per uscire da tante sceneggiature piatte che purtroppo girano è avere il coraggio di osare un po' di più nella scrittura e nella scelta dei personaggi, nell'amare i personaggi che si raccontano, non semplicemente farseli piacere, ma proprio nell'entrarci dentro, nel vivere con loro. Io ho sempre creduto questo, insomma, non perché lo scrittore debba adottare il metodo Stanislavski, ma comunque devi diventare i personaggi che racconti, devi conoscerli, devi sapere di che cosa stai parlando. E queste sceneggiature di solito, quando mi capita di leggere cose di colleghi e vedo questo, dico, caspita, qui c'è sicuramente della forza e anche il coraggio di innovare rispetto agli schemi e ai parametri che vengono in qualche maniera calati dall'alto all'interno di tanti centri di formazione per la scrittura cinematografica. Penso che in questo momento la sperimentazione, il conoscere le regole per violarle è il segreto per scrivere delle buone sceneggiature, perché altrimenti poi si corre il rischio o di non trovare spazio laddove si trova spazio di vedere dei film che alla fine sono molto deboli, insignificanti. Insomma, innanzitutto essere coraggiosi, credo. Quando si è coraggiosi, difficilmente uno legge una sceneggiatura e dice che cosa terribile. Al limite uno dice è una cosa molto coraggiosa, molto interessante, lavoriamoci ancora, miglioriamola, perché comunque la sceneggiatura essendo un materiale di transizione, una scrittura di transizione ha bisogno di tantissimi passaggi. Se in un buon romanzo con 3-4 riscritture si arriva a un lavoro decente, in una sceneggiatura bisogna avere anche il coraggio di passarci anche 7-8 volte. Non a caso in televisione in tempi stretti ci si passa 4-5 volte e in televisione si fanno delle cose sicuramente di livello più volutamente, più piano che per il cinema. Quindi diciamo innanzitutto il coraggio, almeno io credo in questo e nella mia esperienza posso dire che laddove sono stato coraggioso sono stato nel mio piccolo premiato.